non è mai facile raccontare la storia di una star soprattutto se questa storia è stata brevissima è stata una fiammata una meteora che si è disintegrata al primo contatto col cielo e questa è stata la storia di Amy Winehouse beh a raccontare questa storia noi ci proveremo il 2 luglio con la musica The Glass of Winehouse e il 6 luglio a video e parole al battiferro